Per anni la domanda tormentone di fine dicembre è sempre stata cosa si fa a Capodanno? Da un paio d'anni invece la domanda si è trasformata in cosa si può fare a Capodanno? Praticamente nulla nel 2020 con il San Silvestro trascorso in lockdown, molto di più in questo ultimo dell'anno 2021, ma meno di quanto era lecito sperare solo fino a poche settimane fa. Il decreto ministeriale del 24 dicembre dice infatti che sarà un ultimo dell'anno senza eventi pubblici, senza feste in piazza con conto alla rovescia verso la mezzanotte, senza sale da concerto o discoteche, che resteranno chiuse. Questo impone la rapidità di contagi accelerata dalla variante Omicron anche nelle Marche. La parola d'ordine è evitare qualsiasi situazione che potrebbe determinare assembramenti. Nessuna limitazione invece per gli spostamenti. Ci si potrà muovere verso altri comuni o altre regioni rispetto a quelle di residenza e si potrà andare in albergo. Inevitabili le polemiche anche a Pesaro fra i gestori delle discoteche, riaperte da poche settimane e già richiuse fino al 31 gennaio come imposto dal decreto festività. Polemiche suscitate da una regola che fa figli e figliastri con le sale da ballo ipercontrollate e circoli o feste private impossibili da controllare. Il massimo consentito sarà il cenone con musica da sottofondo ma senza balli. Già perché rispetta un capodanno fa questa volta al ristorante ci si potrà andare e lo si farà come lo si sta già facendo da un paio di settimane, ovvero solo muniti di Super Green Pass, tradotto solo se si è vaccinati. C'è però anche una sacca di resistenza diffusa a evitare situazioni potenzialmente da contagio. Ci sono sì i locali pieni ma non mancano anche i ristoranti paesaresi che hanno preferito disdire il cenone. Tanti invece quelli che lavoreranno con l'asporto per i cenoni da apparecchiare in casa. Fra le mura domestiche infatti non vige nessuna limitazione a ricevere ospiti al di là dell'attenersi al buonsenso.